Il monopoio naturale è una situazione in cui la curva di costo medio è sempre decrescente, cioè il costo di produzione decresce con la quantità che si produce, quindi in un mondo ideale sarebbe bello avere un produttore solo che produce per esempio tutte le automobili del mondo perché così facendo produrremmo, non so quanti si producono, 20 milioni in anno, 15 milioni in anno di pezzi e quindi avremmo un produttore unico. In alcuni casi certo sarebbe bello avere un produttore unico che producesse la macchina unica che piace a tutti, però le preferenze sono diversificate, a me la macchina piace in un modo, piace in un altro. Tutti vorremmo andare sulla Torino-Milano, tipico caso di monopolio naturale perché si dice basta un binario e facciamo quindi la tratta, non il proprietario del treno, ma il proprietario, chi gestisce il binario, la via ferrata e il monopolio naturale. Non è vero, basterebbe costruirlo uno a fianco e avremo una tratta ferroviaria in concorrenza con la prima. Non vi piace andare in treno, andate in autobus. Il fatto che a noi piacerebbe avere un produttore unico che produce a costi minimi non significa che noi abbiamo il diritto ad avere un produttore unico a costi minimi. Volete regolamentare? Fate molta attenzione perché intanto quando arriva il primo produttore che per esempio, immaginate siamo nell'Ottocento, non esistono vie ferrate, arriva il primo produttore che decide di costruire una via ferrata fra Torino e Milano. Da un punto di vista giuridico non c'è nessun motivo per cui noi abbiamo il diritto di imporre a questo imprenditore le modalità del servizio e il prezzo a cui può fare accedere a quel servizio i consumatori. Lui dovrebbe avere la libertà di fare quello che vuole. E un imprenditore offre un servizio e non ci piace, non è che basta che noi non ne approfittiamo. Cioè il fatto che uno abbia avuto un'idea luminosa, chiamone così, non dà il diritto al consumatore di approfittare dei frutti di quell'idea alle condizioni che piace ai consumatori. Quello che noi abbiamo come collettività dovere di garantire è che se qualcuno pensa di realizzare un mezzo di trasporto fra Torino e Milano più conveniente della ferrovia di quel tizio imprenditore, il primo imprenditore, si accomodi, faccia la sua ferrovia e vada in concorrenza con quell'altro, oppure metta sulla sua linea di autobus, oppure se non ci piace per esempio l'autostrada Torino e Milano che costa troppo, prendiamo una statale. Voi potete dire ma io non ci voglio mettere tre ore per andare a Torino e Milano con la statale quando ci posso mettere un'ora e un quarto per andare in autostrada. Sì, ma andare a 130 all'ora non è un diritto dell'individuo, voi avete il diritto di scegliere, non avete il diritto di percorrere una strada che piace a voi e alle condizioni che piace a voi. Il fatto che il proprietario dell'autostrada o del treno o di un canale o di qualunque altra cosa, un servizio postale, sia l'unico e abbia per così dire una situazione di monopolio naturale non dà il diritto a nessun altro di imporre a quell'imprenditore le condizioni in cui esercita la sua attività. Voi potete dire non è desiderabile, il liberismo non è un sistema fatto per consentire ai consumatori di imporsi sui produttori, è un sistema che vieta ai produttori di obbligare i consumatori di comprare quello che producono. Fine. è un sistema che dà agli imprenditori la libertà di intraprendere, ai consumatori la libertà di scegliere, non dà la libertà ai produttori di imporre ai consumatori cosa consumare, né dà il diritto, il potere ai consumatori di dire ai produttori come e che cosa devono produrre. e lo dice il termine liberismo, cioè libertà di scegliere che cosa produrre e che cosa vendere, che cosa consumare e presso quale produttore fare i propri acquisti.